Si pone tutta quanta a reta, va serrando anche il numero uno della favorita fiera del bar, macchina che va per staccare per il comando numero quattro di Polka in Ronco. Macchina che ha staccato Polka in Ronco al comando, si impegna a largo la numero sette di Paola Alter, rimane terzo sotto, Princesa d'Asti avanti a Principe Sarum, si affrontano i primi della piegata dopo il lancio in 13-1. Polka in Ronco libera avanti a Paola Alter, Princesa d'Asti ancora Principe Sarum, quindi a seguire la sede di Please Man, una lunga fila indiana l'uscita della piegata, con Polka in Ronco comunque libera, intanto il numero uno la favorita fiera del bar a Tavellone. Dunque colpo di scena con la favorita fiera della bar che è a Tavellone, si transita ora davanti alle tribune, i primi 400 metri in 29-4, raguaglio svetto per la categoria, si completano adesso i 600 in 45-6, il sensibile rallentamento della leader Polka in Ronco. Arco della piegata di destra con le posizioni d'avanguardia che non accendano a cambiare, Polka in Ronco davanti a Paola Alter, ancora Princesa d'Asti, quindi la numero 5 di Principe Sarum che è alato adesso a Please Man, è completato anche il mezzo miglio di corsa, 1-1 abbondante, 32-1 di secondo quarto. Azioni in vista del chilometro con Polka in Ronco che ora ha cominciato ad andare, intanto il numero 10 di Parisienne a Barre a Tavellone, completato anche la chilometro sul piede dell'1-16-9. Sempre Polka in Ronco in evidenza, avanti a Paola Alter, ancora Princesa d'Asti che ora viene sopravanzata gradualmente da Please Man, quindi ancora vicine, Principe Sarum è la numero 11 di Poesia di Casei, tre quarti di miglio in 1-32-6 con 31-1 di terzo quarto, l'ingresso in arreta d'arrivo con Polka in Ronco e Aglio Parenti sotto il tiro di Paola Alter e si intravede a largo anche Please Man che prova a sprintare a centropista, poi arrivano gli altri interramenti, il numero 13 di Penelope e Pinkson, i metri conclusivi del percorso con Please Man che sembra la più convincente dell'otto, arriva fortissimo anche Poesia di Casei nel metri conclusivi del percorso, Please Man al debutto, viene a vincere poi in quattro parti.